5 persone sono state denunciate e sono stati sequestrati farmaci per un valore di diverse migliaia di euro dal comando della Guardia di Finanza della provincia di Arezzo. Questo l'esito di un'operazione che ha permesso di scoprire un meccanismo per truffare il Servizio Sanitario Nazionale che andava avanti almeno dal 2012 e che ha recato un danno erariale di almeno 50.000 euro. A finire nei guai due farmacisti e tre medici di base di Monte San Savino. Al momento dell'acquisto di un medicinale da parte di un cliente i farmacisti staccavano la fustella del farmaco per apporla su ricette false fatte fare da dottori loro complici così da essere rimborsati poi dalla ASL. A quel punto il farmaco poteva anche essere veramente ceduto con un doppio guadagno oppure bruciato in un terreno adiacente alla farmacia provocando così oltretutto anche un importante danno ambientale. Nelle perquisizioni sono state rinvenute circa 400 tessere sanitarie dignari pazienti alcune in originale e altre fotocopiate che venivano utilizzate per emettere le finte prescrizioni mediche emesse a volte addirittura nei confronti di persone morte. In pratica le ricette venivano compilate a tavolino basandosi su criteri di rotazione delle prescrizioni mediche tra i vari pazienti il tutto per eludere possibili campanelli d'allarme degli organi di vigilanza. Tutti i professionisti sono stati denunciati alla Procura di Arezzo e alla Corte dei Conti di Firenze.